Ebbene sì, insieme abbiamo scoperto il vero colpevole, la professoressa Benedetta Caloni. A suo dire si è trattato solo di un grande equivoco. Dobbiamo crederle? Ammetta professoressa, che è stata lei a venire quella sera e rubare tutti i palloni. Cosa voleva farsene? Sì, è vero, sono stata io a portare via i palloni, ma è stato tutto un malinteso. Io sono la professoressa Caloni e insegno educazione fisica al liceo. Durante un'ora di lezione mi sono accorta che i palloni erano sgonfi, così li ho presi per poterli sistemare. Poi mi sono assentata per un paio di settimane e mi sono proprio dimenticata di avvisare il mio collega, il professor Riva. Quella sera sono passata in palestra e proprio mentre stavo raccogliendo i palloni, ho ricevuto una chiamata dalla mia amica inglese, che mi avvertiva che mi stava aspettando. Per questo sono partita tutto gas. Avevamo un treno da prendere e rischiavo di non fare il tempo. Ma non potevo immaginare tutto quello che sarebbe successo per aver portato via i palloni a gonfiare. Ma dico io commissario, l'hanno davvero scomodata per così poco? Tutto risolto dunque. Eppure il mio istinto da investigatore mi suggerisce che sentiremo ancora parlare del Cardinal Ferrari. Ti sei divertito al nostro Open Day? E hai sentito la novità? Potrai scegliere la tua seconda lingua tra tedesco e spagnolo. Non perdere tempo e iscriviti al più presto al Cardinal Ferrari. Prendi al volo questa occasione! Non perdere tempo e iscriviti al nostro canale. Grazie!